Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo lieti di proporvi in vendita un eccellente appartamento di quattro mani situato in una posizione strategica di fronte alla nuova sede del CNR a Bari. Questa prestigiosa proprietà di 130 metri quadri offre spazi ampi e luminosi con finiture di alta qualità. Marcando la porta d'ingresso siamo accolti da un salone doppio caratterizzato da doppie affacci sulla strada principale che inondano l'ambiente di luce naturale. A sinistra del salone troviamo una cucina abitabile perfettamente attrezzata con accesso diretto a un terrazzo interno di circa 8 metri quadri ideale per pranzi all'aperto e dotato di una pratica lavanderia. Proseguendo verso la zona notte incontriamo la prima camera da letto che offre accesso a un terrazzino interno. Subito dopo troviamo una spaziosa camera matrimoniale arricchita da una cabina armadio e un balcone interno che garantisce ulteriore luminosità e spazio all'ambiente. Il barbio è un padronale funzionale completa la zona notte. L'appartamento è dotato di riscaldamento autonomo assicurando il massimo comfort durante tutto l'anno e dispone di ascensore garantendo praticità. Questa proprietà rappresenta una soluzione abitativa ideale per chi cerca un ambiente moderno e raffinato in una posizione privilegiata. Non perdete l'occasione di visitare questo magnifico appartamento e di apprezzare tutti i dettagli che lo rendono unico. Contattateci per ulteriori informazioni e per prenotare una visita. Ciao, alla prossima!